Ci sono anche una docente, uno studente, un autista di una cooperativa che gestisce il servizio scuola, bus tra i positivi accertati oggi in Valle Peligna. Sono 17 nuovi contagi, 3 le classi finite in quarantena. Un bollettino che si conferma preoccupanti, alla luce dei dati che si registrano nei due centri Peligni, osservati speciali, ovvero Raiano e Rocca Casale, per i quali contagiano non dà alcun segnale di tregua. Tre nuovi casi si contano a Raiano che sale a quota 32, ovvero l'1,18% dei positivi sui residenti, mentre un altro contagio riguarda Rocca Casale che conta 13 attuali positivi e 19 in sorveglianza, vale a dire il 2% della popolazione residente. Numeri da capogiro che tengono alta l'attenzione visto il rischio di zona rossa. Per bloccare l'avanzata del contagio entrambi i comuni hanno programmato un nuovo screening per il fine settimana, mentre Raiano ha dato disposizioni anche per effettuare i test salivari ai bambini al di sotto dei 6 anni. Nel frattempo a Pratola ad alcuni giorni risulta sospeso il servizio scuolabus a causa di una positività accertata solo oggi su un autista della cooperativa che gestisce il servizio, fortunatamente non ha stretto contatto con studenti. L'altro operatore è risultato negativo al test rapido, ma in via cautelativa si sottoporrà sabato al tampone molecolare, per cui il servizio resterà sospeso ancora per qualche giorno. A proposito di scuole, salgono a 18 le classi sorvegliate dalla ASL, 7 a Sulmona, 6 a Raiano, 3 a Pratola, 2 a Scanno. La novità riguarda una classe terza della scuola primaria Masciangioli per la quale sarà attivata oggi la quarantena, una prima e una terza della scuola media di Scanno per la positività di una docente. Fine della sorveglianza per una classe quarta del liceo classico. Ogni tanto una buona notizia avrebbe da dire, anche se un respiro di sollievo lo possono tirare, anche i 12 studenti che oggi sono risultati negativi e test antigenici rapidi svolti dall'ANA. Ne sono stati effettuati 57 e nessuna positività è stata accertata. Ma con una zona arancione alle porte, con le varianti che circolano, il rispetto maniacale delle misure anticontagio diventa fondamentale in questa fase per evitare una zona rossa generalizzata, assolutamente da scongiurare per ovvi motivi. I casi di oggi sono stati accertati 8 a Sulmona, 3 a Raiano, 2 a Goriano Sicoli, uno ciascuno a Pratola, Peligna, Corfinio, Rocca Casale e Prezza. Sono 342 gli attuali positivi in centro Abruzzo, di cui 159 domiciliati a Sulmona. Infine qualche novità si registra anche sul fronte ospedaliero. Due pazienti ricoverati, medicina Covid, sono stati trasferiti nelle ultime ore all'ospedale San Salvatore dopo la desaturazione dei valori dell'ossigeno, mentre una paziente positiva ha stazionato nell'aria triage.